Dissipatore Salve ragazzi, oggi vi presento il Dark Rock 3, che è un dissipatore della Be Quiet Non so se avete mai sentito parlare del marchio, ma Be Quiet produce per lo più dissipatori e anche altre componenti La cui peculiarità è trovare la massima silenziosità per un buon compromesso per quanto riguarda le prestazioni Questo dissipatore è installabile su quasi tutti i socket Intel che ha i medi Ovviamente in dettaglio vi lascio la recensione scritta al nostro sito, con tutte le caratteristiche tecniche Il prezzo non è bassissimo, però come potete notare la qualità costruttiva sia all'estetica sono eccellenti Soprattutto se si vede, se si prende con mano sia il dissipatore che la ventola Il corpo radiante è in alluminio, mentre l'8 pipe e la base sono in rame, ma sono placcati da nichelato scuro Quello che più interessa è l'ottimo rapporto quantità d'aria e rumore rilevato Infatti con un rumore di circa 20 decibel la ventola è in grado di produrre 67 CFM Questo ci fa capire che comunque per l'area che smuove è molto più silenzioso rispetto ai tradizionali dissipatori, infatti i dissipatori di solito arrivano anche a 35-40 decibel al massimo regime Vi ricordo che il regime massimo è di 1400 RPM E' possibile migliorare le prestazioni ancora di più aggiungendo una ventola sul retro E abbiamo già inclusi nella confezione i due ganci per mantenerla Ovviamente ricordo che il dissipatore è in grado di raffreddare fino a 190 W Quindi siamo su un'ottima soglia e abbiamo la possibilità di overclockare anche in maniera spinta il nostro processore All'interno è presente anche la pasta termica e ho notato che è di buona qualità e soprattutto è molto morbida da spalmare Ho dimenticato di dirvi che il dissipatore è anche dei pad antivibrazione per ridurre ancora di più la rumorecità L'installazione è molto semplice soprattutto su piattaforma AMD La cosa che ho dovuto fare è mettere la piastra con i 4 perni sul retro E sulla parte anteriore ho dovuto mettere dei gommini per mantenere questi perni Dopodiché ho applicato quindi la pasta termica sul processore Ho installato le due staffette per socket AMD Ovviamente quelle per Intel sono differenti E ho fatto in modo che le staffe coincidessero quindi con i 4 buchi Nulla di più semplice Infatti una volta che ho aggiunto il dissipatore Da dietro ho avvitato per far sì che la vite si chiamasse la basetta Per quanto riguarda le temperature devo dire che ho provato questo dissipatore su un 5800K Che comunque è di norma molto caldo Ha un clock di circa 4,2 GHz Quindi un overclock abbastanza spinto Devo dire la verità se l'è cavata molto bene Soprattutto perché anche al massimo del range Il rumore è praticamente assente Infatti questo è uno dei dissipatori più silenziosi che io abbia mai provato E installando questo dissipatore Quindi ho sentito tutti gli altri rumori Piuttosto che quest'ultimo Ciò che vi consiglio però è di aggiungere almeno un'altra ventola sul retro E di creare un buon flusso d'aria all'interno del case Anche perché nella prova che ho fatto Per velocizzare non ho installato una ventola posteriore E non ho neanche installato le ventole nel case per il flusso d'aria A mio parere questo dissipatore è molto consigliato Soprattutto per la qualità costruttiva e per l'estrema silenziosità Per quindi chi amante del silenzio e non sopporta ronzichi o altri fastidi Questo è veramente un dissipatore che può fare la differenza Soprattutto per chi ha il pc nella stanza e lo tiene acceso 24 ore su 24 Ovviamente sono disposto a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda Tramite un commento qui sotto O anche tramite un messaggio privato sulla pagina facebook Io vi consiglio inoltre di iscrivervi al canale E di lasciare un bel mi piace al video per supportarci Un saluto e alla prossima